Vittoria di fondamentale importanza quella ottenuta sabato pomeriggio dal Giarre nell'insidiosa trasferta del Celeste contro il Forza Calcio Messina. Gli uomini di Mister Mancuso hanno fatto pesare il loro superiore tasso tecnico, andando a vincere nel capoluogo peloritano col rotondo punteggio di 4-2, al termine di una partita che ha visto il giallo-blu sempre avanti nel risultato. Tre punti basilari per la squadra del presidente Di Martino, che proiettano il Giarre in una posizione di classifica ridosso dei play-off e soprattutto a debita distanza dalle zone calde. Il Giarre è sceso in campo col classico atteggiamento tattico che ha visto Aleo supportato dalla mezza punta Nirelli, controvato L8 a supportare sulle fasce il 2 offensivo e Patti e Monte a Farlegne in mezzo al campo. In difesa agli esterni Curcuruto e Patanè, assieme ai centrali Cordima e Mastronardi, hanno avuto il compito di non far correre pericoli al portiere Riccardo Trovato. La sinfonia giallo-blu inizia il diciottesimo del primo tempo, con il rigore realizzato da Salvatore Trovato e propiziato da un atterramento di Aleo da parte del difensore peloritano Manzella. Dopo una fase piuttosto equilibrata, con occasione di una parte dall'altra, è arrivato il raddoppio che ha definitivamente rotto gli equilibri. A siglarlo, al tramonto del primo tempo, è stato il centrocampista Patti grazie a un pregevole colpo di testa. Nella seconda frazione il peloritano Manzella prova a farsi perdonare accorciando le distanze, complice una deviazione del centrale gerrese Mastronardi. Ma è il bomber Aleo a riportare giallo-blu a distanza di sicurezza con un colpo di testa che a metà ripresa ha trafitto l'estremo difensore avversario Fazio. Il 2-3 siglato da Buscema non ha impaurito il Giarre, che in pieno recupero ha legittimato il successo siglando la quarta rete con Alessio Russo, complice una fortunata carambola causata da un errato rinvio di Fazio. Dopo la vittoria del Celeste, i giallo-blu si portano all'ottavo posto del girone B dell'eccellenza, con 17 punti. I play-off sono lontani sei lunghezze. Per sognare in grande e progettare l'assalto alle zone nobili della classifica, il calendario ha riservato la sfida all'Orlandina, in programma sabato prossimo regionale.